Ha conquistato una storica promozione in B con la nocerina nella stagione 2010-2011. In panchina, Gaetano Auteri, l'ex capitano del Pescara ed ora allenatore del Pineto in Serie D, Marco Pomante, ha solo parole al miele per il tecnico siracusano e per il suo stile di gioco, che in questo inizio di stagione, conferma lo stesso Pomante intervenendo al replay, risente di una condizione fisica non ottimale. Il lavoro atletico imposto da Auteri nel precampionato è molto duro e nelle prossime settimane produrrà i suoi effetti con ripercussioni positive sul tipo di calcio voluto dall'ex tecnico, tra le altre di Benevento e Catanzaro. Si vede il marchio del mister, si vede che è una squadra che cerca di imporre il proprio gioco, cerca di avere una pressione molto alta a squadra avversaria. È normale che adesso non la sta accompagnando a una buona condizione fisica, ma penso sia normale perché siamo alla terza giornata e trovare una squadra che stia al 100% della propria forma è difficilissimo. E per come gioca il Pescara, sinceramente, la condizione fisica è importante perché lui predilige molto il gioco offensivo, attacco con tanti uomini e fisicamente se non reggi questa pressione rischi sempre di prendere, tra virgolette, contropiedi. Lui vuole giocare sempre con la difesa altissima, con la pressione alta per 90 minuti. Il problema è che adesso la condizione non regge, non è facile. Poi, lui, i tre attaccanti difficilmente li sfrutta nella fase difensiva. Quindi, quando non hai una condizione fisica ottimale, difficilmente riesci a reggere per 90 minuti. Integralista del 3-4-3, ma nelle ultime due gare nel corso della ripresa, Auteri ha modificato l'assetto, passando al 4-3-3. Lui difficilmente cambia modulo, però è vero che anche il rosa ha giocatori che in centrocampo sono giocatori importanti. Momemusha, i Pompetti sono giocatori che, sai, giocando a due, secondo me fanno un po' fatica. È normale, lui poi è un allenatore esperto, sicuramente riuscirà a trovare la quadra. Però, a di là dei numeri, è l'atteggiamento che lui sicuramente non cambierà. Da buon allievo, Marco Pomante, ora anche egli allenatore, segue le orme del maestro e si prepara al debutto in campionato di domenica prossima contro il Castelnuovo. Marco, tu giochi come Oteri? Sì, sì, diciamo che io l'anno scorso ero partito per giocare con il 4-3-3, poi, come sapete, tutte le vicissitudini che sono cesse Covid, un po' di infortuni, mi sono dovuto adattare anche a seconda delle esigenze degli under. Riparto con questo modo, diciamo che ho... Domenica si inizia. Domenica si inizia con il Castelnuovo, una partita difficile. Speriamo di partire bene.